buongiorno a tutti allora inizia il tour de force delle schedine bollettine del gigione per quanto riguarda le partite dei cinque campionati principali ormai lo sapete inutile che mi ripeto siccome venerdì sera ci sono già gli anticipi c'è una squadra una partita una squadra una squadra una squadra porca miseria una squadra è un righello una riga comunque ci sono cinque partite di quattro campionati perché al campionato italiano giocano direttamente sabato ci sono tre partite al sabato poi c'è quelle della domenica poi c'è il posticipo del lunedì come sempre dovrebbe essere quello del milan teoricamente non ho ancora guardato ho visto le partite che ci sono ma non piano piano si fa le cose non mi va di correre sapere prima tanto ci arriviamo detto questo detto questo si parte con la schedina con la schedina number one di cinque partite eibar cadice partita da aiuto allora sulla carta eibar è favorito però il cadice mi è andato a vincere in casa del real madrid quindi non vorrei che faccia lo scherzetto anche stavolta quindi eibar cadice 1-2 la butto lì così poi due partite del campionato francese ren brest 1 e nan psg che ve lo dico fa un bel 2 poi partita del campionato tedesco schalke 04 stoccarla con uno stoccarla favorito ma sapete il campionato tedesco regala sempre surprise quindi mettiamoci una bella doppia x2 e vediamo come la va infine partita del campionato inglese del venerdì wolverenton crystal palace ecco potevano scegliermene un'altra perché wolverenton è una squadra che prende pochi gol e sempre la formichina 1 a 0 2 a 0 non di più poi magari con crystal palace mi fanno mi fanno tre a due eccetera perché calcio champagne e tutto quanto però wolverenton crystal palace un bel 1x e non è senza saperne leggere né scrivere veniamo alla bollettina number two eibar cadice over 1 e mezzo ren brest over 1 e mezzo nan psg over 2 e mezzo poi se volete essere coraggiosi metterlo over 3 e mezzo over 4 e mezzo eccetera eccetera io come dico sempre pochi ma buoni soprattutto se ne giocate tante se la giocate in singola è a vostra discrezione se volete alzare ulteriormente la posta schalke 04 stoccarla over 2 e mezzo o gol a vostra discrezione infine wolverenton crystal palace a mio rischio e pericolo over 1 e mezzo anche perché l'under 3 e mezzo pagava veramente una beata giovanna e quindi ho detto rischiamola rischiamola con l'over 1 e mezzo poi se volete andare di under 2 e mezzo perché se andate già di under 3 e mezzo mi sa che scende a 1 e 10 1 e 9 1 e 15 al massimo perché a 1 e 35 l'over 2 e mezzo l'under 2 e mezzo quindi fate bobis l'over 2 e mezzo a 2 e 90 di quella partita lì ecco vi ho già detto tutto detto questo andiamo a vedere le partite che il gigione a suo rischio e pericolo ha scelto allora ero incerto tra schalke 04 e e bar calice alla fine mi arrischio la partita del campionato tedesco perché si presta poi a tante altre opzioni qualora la fissa o la doppia o il pronostico non andasse bene perché comunque qua ci può stare il gol ci può stare l'over ci possono stare tante altre opzioni che piacciono tanto a me e quindi anche se si rischia un attimino l'2 l'is2 diciamo che poi hai delle chance dopo con gli altri risultati di poterla portare a casa piuttosto che non le bar calice che mi puzza mi puzza sulla carta le bar è favorito però il calice già mi è andato a vincere a madrid è vero che vincere con real in questo momento non è un non stai facendo un'impresa però è sempre real madrid quindi ho scelto schalke stoccard le altre partite hanno già una favorita d'obbligo che è il ren il paris san germain e il wolverentum quindi ci stava partiamo subito con la schedina con le fisse ren brest 1 non paris san germain 2 schalke 04 stoccard a 2 e wolverentum crystal palace 1 con 5 euro se ne vincono 55,11 poi ragazzi se per voi schalke 04 finisce in pareggio metteteci la x se per voi ve ne sbattete altamente che i pronostici sono tutti per lo stoccard e dite no per noi vince lo schalke 04 eccetera mettete l'uno e la quota si alza ulteriormente è a vostra discrezione io l'ho messa giù così poi fate vobbis seconda bollettina ren brest 1x nam psg 2 schalke 04 stoccard a x2 e wolverentum crystal palace 1x con 5 euro 13 euro 81 siccome già mi dite 13 euro 81 non è inutile che faccio la solita scena bollettina sostitutiva chiamiamo alternativa che dir si voglia quindi ren brest 1 nam paris san germain 2 mi arrischio il campionato francese a mio rischio pericolo schalke 04 is 2 wolverentum crystal palace 1x in questo caso con 5 euro se ne vincono 20 e 61 e direi che possiamo essere soddisfatti naturalmente a vostra discrezione potete lasciare la doppia su ren brest e rischiare su wolverentum crystal palace sinceramente la partita più diciamo in casinetta è schalke 04 stoccard quindi io lascerei la doppia poi ho tutto può succedere magari anche nonostante la doppia quelli mi vanno a vincere in casa contro pronostico eccetera non si sa mai me la vedrò me la vedrò visto che il campionato inglese tedesco li posso vedere e me li guardo su sky veniamo alla terza bollettina doppia chance più over ren brest 1x più over nam psg 2 più over schalke 04 stoccard ice 2 più over wolverentum crystal palace 1x più over con 5 euro 26 euro e 97 direi di lasciarla così poi come vi dico sempre se volete rischiare di più togliete una doppia togliete due doppie mettete l'over 2 e mezzo è a vostra discrezione io vi do la base e poi ci create sopra la torta che volete quarta bollettina e qua c'è poco da da creare è così eppomi ren brest gol ospite nam psg gol casa schalke 04 stoccard gol casa wolverentum crystal palace gol ospite con 5 euro 21 euro e 29 è inutile che vi dica che queste sono le bolle questa è la bollettina che me fa libidine anche se mi sa che in champions non è andata tanto bene almeno nell'ultima perché sono finite tante partite con una delle due squadre che non ha segnato mica sempre tutte le ciambelle vengono col buco come diceva quello là proseguiamo con la quinta bollettina ren brest gol più over nam psg gol più over schalke 04 stoccard la gol più over wolverentum crystal palace gol più over con 5 euro 115 euro 80 allora mentre facevo questa bollettina che faccio sempre eccetera mi è venuta questa pensata poi dopo magari non serve e va alla grande siccome ren brest nam psg e schalke 04 stoccard i gol più over sono favoriti anche se nelle due partite del campionato francese non sono favoritissimi però c'è una legge il pronostico è più per il gol più over ecco per intenderci schalke 04 stoccard invece dovrebbero segnare come come rumenig nell'area della cavese ecco per intenderci wolverentum crystal palace magari uno mi mette i tre gol più over e su wolverentum crystal palace mi mette una bella doppiettina un bel 1x così buttato lì tanto le prime tre già ti alzano la quota metti quella lì che ti mette quel 1 e 30 in più 1 e 40 in più che ti aggiunge quel qualcosa in più magari anziché 115 ne porti a casa 95 90 con 5 euro se no se ne giochi 2 euro ne porterai a casa una quarantina 35 con 2 euro ma magari la porti a casa se no poi se uno mi dice no gigi guarda per me wolverentum crystal palace finisce 2 a 1 3 a 1 eccetera eccetera allora non c'è nessun problema era una mia idea che mi è venuta visto che comunque il gol più over in wolverentum crystal palace non è c'è c'è una differenza di una favore del no goal nel no goal più under quindi vi informavo di quello concludiamo con quella folle ren brest 1 più gol nampier pari san germain 2 più gol schalke 0 4 stoccarla 2 più gol wolverentum crystal palace 1 più gol con 2 euro se ne vincono 361,76 con 5 euro 904,40 allora le due partite del campionato francese il no goal è leggerissimamente favorito nel caso di ren brest c'è una differenza minimale nel caso di nant psg c'è 0,30 di differenza quindi siamo lì schalke 04 stoccarla anche qui il 2 più gol favoritissimo wolverentum crystal palace c'è addirittura due punti abbondanti sul no goal quindi naturalmente come faccio sempre bollettina alternativa con 3 no goal e il gol di schalke 04 stoccarla tenendo conto che le due partite del campionato francese il gol e il no goal sono lì lì quindi è difficile fare una scelta è difficile perché comunque io vi do le due opzioni poi vedete voi come come gestirvele quindi ren brest 1 più gol nant psg 2 più 1 allora scusate ren brest 1 più 1 gol nant psg 2 più 1 gol schalke 04 stoccarla 2 più gol wolverentum crystal palace 1 più gol ecco per intenderci in questo caso con 2 euro se ne vien con 167,20 con 5 euro 418 tonte tonde bene detto questo io vi saluto vi ringrazio nella serata comincerò subito a farvi le schedine bollettine del gigione campionato per campionato quindi campionato francese spagnolo francese italiano tedesco inglese in base agli orari in cui le partite si giocheranno sabato quindi prima giocano prima la faccio in modo che così nella giornata di venerdì dovreste averle tutte entro la mezzanotte di venerdì io inizio giovedì al termine delle delle partite di europa league dopo aver fatto il video dell'europa league vi preparo anche le schedine bollettine del gigione già per sabato domenica e lunedì detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao